I stati sottoscrissero la carta delle Nazioni Unite. Roma, una via consolare. Un nastro d'asfalto con una serie di indicazioni. Cartelli, frecce, passaggi pedonali. Fanno parte della nostra vita quotidiana, del paesaggio in cui viviamo. Ma forse non tutti sanno che la segnaletica stradale di cui fruiamo ogni giorno è stata pianificata e decisa in un lontano ufficio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Anche la frutta che mangiamo è stata selezionata.